Giovedì 12 settembre, ben ritrovati con InfoStudio, c'è stato un piccolo problema e abbiamo questo leggero ritardo che via via cercheremo di recuperare. Intanto questa edizione del telegiornale riparte ancora una volta come spesso è accaduto in queste ultime due settimane in modo particolare con l'avvertenza dei precari della sanità e dell'ospedale pugliese di Catanzaro in modo ancora più dettagliato, perché è un'avvertenza che si sta facendo col passare delle ore più che dei giorni sempre più tesa. Dovremmo vedere subito un paio di foto che ci hanno inviato poco fa i sindacalisti che mostrano un sit-in all'interno dell'ospedale e poi anche nei locali del pronto soccorso, nei quali logicamente le telecamere non possono entrare. Vedete la predisposizione di uno striscione, di un cartello con una scritta spray nel quale ironicamente si rivolge appunto un ringraziamento al commissario alla sanità, possiamo tornare in studio. Ma ripeto, è da un lato una corsa contro il tempo, perché comunque c'è una scadenza che è quella di fine anno, al 31 dicembre per molti di questi lavoratori sarà compiuto il percorso, si chiuderà il cerchio dei 48 mesi dopo i quali i loro contratti non possono essere rinnovati. Era un vincolo di cui già si era a conoscenza. Tuttavia pensare di mandare a casa 200 lavoratori, parliamo di medici, infermieri, ostetriche, tecnici e operatori sanitari nel più grande ospedale calabrese, senza che questo non ne risenta, è pura utopia. Ma poi il problema è dell'annunziata di Cosenza, 80 persone sono nella stessa condizione ed è dell'ospedale della struttura universitaria Mater Domini, perché in quell'azienda ospedaliere il 75% del personale è stato assunto a tempo determinato, sono precari e prima o poi anche loro dovranno andare via. Dunque bisogna trovare una soluzione. La soluzione tra le pieghe della legge come al solito può sempre essere individuata. Adesso si tratta di manifestare la volontà politica molto si confida nel nuovo governo e in particolare nel ministro Speranza, ma c'è chi come il sindaco di Catanzaro pensa già a provvedimenti estremi. Questi, diciamo in sintesi, gli esiti dell'ultima riunione svolta sieri alla Cittadella, mentre, ripeto, le proteste stanno ancora proseguendo. Si cerca una via d'uscita per salvare i circa 200 precari dell'ospedale pugliese di Catanzaro che rischiano il posto di lavoro, poiché essendo stati assunti a tempo determinato, sono scaduti 48 mesi oltre i quali, secondo le norme in vigore, non possono più essere concesse loro proroghe contrattuali. Ieri, alla riunione coi sindacati che si è tenuta presso la città della regionale, c'era il delegato alle politiche sanitarie della regione Franco Pacenza, ma non il commissario per il piano di rientro Cotticelli, che si attiene alla norma e non intende concedere deroghe. Tuttavia è stato proprio Cotticelli ad aprire la possibilità di assumere personale a tempo determinato, ovvero per sei mesi, attingendo alle graduatorie dei vincitori di concorso, ponendo però la condizione di predisporre tutti gli accorgimenti necessari per garantire i livelli essenziali di assistenza. Se poi la rimodulazione interna si rivelasse insufficiente, allora si potrà procedere con il reglutamento. Ossigeno per i reparti dell'ospedale, ma non per i 200 precari che vi hanno lavorato negli ultimi tre anni e mezzo e che si aspettavano la stabilizzazione. Si può fare qualcosa per loro e se sì, che cosa? Un escamotage ci sarebbe sempre tra le pieghe della legge. Si pensa infatti ad un'interpretazione estensiva dell'articolo 57 del contratto collettivo di lavoro del settore sanità, il quale accenna la possibilità, per le aziende che abbiano particolare necessità di essere esentate dal rispetto dei numeri di contratti d'assunzione. Ed in questo momento non c'è forse azienda sanitaria italiana che ha bisogno di rimpinguare gli organici più di quella ospedaliera di Catanzaro. La fuoriuscita dei 200 precari infatti provocherebbe anche un taglio dei posti letto e dei servizi, con ripercussioni assai gravi sull'utenza, già stremata da liste d'attesa infinite, file interminabili per qualunque tipo di prestazione e malfunzionamenti. A questa ipotesi, che al momento sembra essere l'unica possibilità per non disperdere il capitale umano e non mettere definitivamente in ginocchio l'ospedale di Catanzaro, stanno lavorando il direttore generale del Dipartimento Salute Belcastro e di sindacati, che poi dovrebbero sottoporre l'atto ai reggenti delle aziende. E che la situazione sia preoccupante lo dimostra anche il fatto che il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, stia valutando la possibilità di emanare un'ordinanza sindacale per motivi di emergenza sanitaria. E poi c'è la via governativa. Tra poco il nuovo governo dovrebbe cominciare ad operare pienamente e se i latini avevano ragione, il nuovo responsabile del Ministero della Salute ha esattamente il cognome giusto per evitare la deriva. Speranza. Ed ora le parole di due esponenti sindacali, Alessandra Baldari della CGL e Luciana Giordano della CISL e poi, lo avete sentito, il riferimento è già stato fatto nel testo del servizio, il sindaco di Catanzaro, Abramo, il quale appunto sta pensando di emettere una ordinanza per emergenza sanitaria. Noi siamo pienamente convinti, e lo abbiamo ribadito in più sedi, l'abbiamo anche sancito nel protocollo dell'8 maggio con i commissari e con il direttore generale del Dipartimento che non un posto di lavoro in sanità si possa perdere. Perché noi versiamo già in tutte le aziende sanitarie e ospedaliere in una situazione molto critica dovuta innanzitutto alla gravissima carenza di personale. Noi chiediamo il mantenimento e la stabilizzazione del personale a tempo determinato. La chiamata di tutti gli idonei e l'autorizzazione a nuove assunzioni e la necessità di bandire nuovi concorsi, perché assolutamente noi abbiamo bisogno per far funzionare il sistema sanitario regionale innanzitutto delle persone. Da lì si parte, senza queste sarebbe una macchina senza ruote, non potrebbe camminare. Noi riponiamo molte, molte speranze e molte aspettative nel nuovo ministro. Un ministro che deve necessariamente avvocare a sé l'avvertenza Sanità Calabria. Un'avvertenza che oggi registra veramente la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Chiederemo immediatamente un incontro col ministro, perché non possiamo aspettare. C'è il problema delle graduatorie che bisogna portare avanti degli idonei, c'è il problema di questi ragazzi che sono stati mandati a casa dei precari, che oggi sono 18, domani diventeranno 60 e soprattutto i settori della sanità sguarniti di personale sanitario. Quindi la Calabria non si legge più. Se non riusciamo a risolvere il problema della sanità e dare garanzia alla salute, credo che non riusciremo a risolvere nessun altro problema. Mi concentrerò per capire se è possibile eventualmente fare anche un'ordinanza vista la situazione sanitaria che è in grande, grande emergenza. E quindi questa ordinanza servirà sicuramente a impegnare molto di più anche le varie direzioni degli ospedali. La Guardia di Finanza ha arrestato e posto ai domiciliari due persone sorprese a coltivare un terreno su cui era stata impiantata una piantagione di canapa indiana a bianco, quindi nella Locride in località Sant'Anna. I finanzieri hanno notato due auto, un pick-up e una city car, i cui conducenti prendevano spesso questa strada sterrata e poi, senza averne titolo, entravano in un campo che all'apparenza era incolto. In realtà l'attività di osservazione e pedinamento ha consentito di accertare che i due avevano impiantato questa coltivazione, nascosta da vegetazione molto fitta, come avviene in questi casi, ed oltre 500 sono le piante di marijuana che sono state sequestrate di altezza tra il mezzo metro e i due metri e mezzo. Dalla piantagione sarebbe potuta ricavare una notevole quantità di droga che, scusate, immessa sul mercato, avrebbe fruttato ricavi per diversi milioni di Euro. Un 54enne Pasquale Costantino è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Platania, stava lavorando su un terreno in località velati quando, per causa in corso di accertamento, e il mezzo gli si è rovesciato addosso. Sono intervenuti i vigili del fuoco, ma purtroppo per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Assoverato, i carabinieri stanno indagando sulla morte di un bambino di San Sostene di soli 28 giorni. Il bambino era arrivato in ospedale in condizioni già molto precarie, nonostante gli sforzi dei sanitari, purtroppo non ce l'ha fatta. Però si vuole cercare di capire se si potesse fare qualcosa per evitare l'evento fatale e soprattutto se sia stato fatto tutto ciò che era necessario. Dunque, torniamo ad occuparci della vicenda degli effetti nefasti creati soprattutto sul mondo del lavoro dall'eccezionale evento, forse non più eccezionale, lo scopriremo comunque molto presto, evento climatico di fine novembre dell'anno scorso, quando sul Crotone si abbatte letteralmente un tornado. E a distanza ormai di nove mesi c'è chi come l'impresa Graziani, una delle poche imprese metalmeccaniche rimaste sul territorio, ha deciso di procedere con 23 licenziamenti. Poi, sullo sfondo di questa vicenda c'è anche una battaglia tra due delle tre anime della vecchia triplice, perché la CGL, ovvero la FIOM, il sindacato dei metalmeccanici della CGL, è sempre stata presente in azienda, l'unico sindacato sempre presente, ma l'azienda ha siglato un accordo con la FIM, che è la Federazione dei metalmeccanici della CISL. Ieri si è tenuta una riunione, seguita per noi da Giuseppe Laratta, al termine della quale hanno parlato uno dei lavoratori licenziati, il segretario della FIOM, Covello. Dopo 15 anni di magazziniere, dal 2004 ad oggi 15 anni, non serve più il magazzino e mi trovo qua adesso. Le persone licenziate siamo 17, parlano di 23, di 28, ma c'è gente che è andata via, chi ha dato le dimissioni, chi è andato in pensione, e allora il numero si è ridotto a 17, però lui ha mandato 17 persone effettivamente, di cui il più poco a minimo 20 anni di assunzione. Le problematiche dell'azienda ci sono, non è che non ci sono, però si poteva venire a un'alternativa, si poteva discutere, si poteva parlare. Il sindacato stava cercando di trattare, di portare al termine una trattativa, poi sono arrivati dei signori che noi ne conosciamo e ne sappiamo chi sono, è praticamente un'altra confederazione sindacale, che sarebbe la CISL, che noi ne conosciamo, mai visti in questa azienda, noi sono 4-5 anni che stiamo cercando di risolvere la problematica dell'azienda, del mercato del lavoro e del costo del lavoro, non è che noi non ce ne frega niente dall'azienda, perché noi purtroppo siamo qua che mangiamo e nel piatto dove mangiamo non abbiamo mai sputato. Perché vanno a casa questi 17 lavoratori? Sul piano formale, perché secondo l'accordo sottoscritto all'ufficio del lavoro, loro sono coloro i quali hanno i requisiti peggiori determinati dalla legge 2-2-3. Voi sapete che la legge 2-2-3 che gestisce i meccanismi di licenziamento con l'articolo 4 e 24 prevede una griglia individuata sulla base delle cariche di famiglia, anzianità, anzianità professionale. Anche su questo abbiamo detto ai lavoratori licenziati che come sindacato insieme ai nostri uffici legali verificheremo se corrisponde a vero. Noi non eravamo necessario fare ricorso a una procedura di licenziamento, perché di questo parliamo, perché firmare un accordo che prevede 23 casse integrazioni straordinarie significa licenziare le persone e metterle fuori dall'azienda. Purtroppo è sopraggiunto un accordo con la firma di una sigla sindacale che è legittima dal punto di vista formale, ma che però avremmo voluto, cosa che ancora adesso non è accaduto, venisse a confrontarsi con i lavoratori per spiegare ai lavoratori ai propri scritti e non solo. Ieri sera a Simbario, intorno alle 22, due malviventi hanno compiuto una rapina in casa di due anziani. Hanno agito a viso scoperto, ma sono entrati con degli abiti mimetici e hanno minacciato la coppia con una pistola, sono fatti consegnare denaro contante, buoni fruttiferi e anche altri valori. Ancora l'ammontare della rapina non è stato del tutto quantificato. Adesso parliamo invece dell'inaugurazione tra via Popilia ed il ponte di Calatrava della nuova Bretella, che non a caso l'amministrazione comunale ha deciso di inaugurare alla vigilia di un momento topico per tutte le grandi città calabrese, ovvero l'apertura dell'anno scolastico. Aperta a Cosenza la strada che collega il ponte di Calatrava e via Popilia, un nuovo snodo che dovrebbe agevolare notevolmente la viabilità proprio alla vigilia dell'inaugurazione lunedì prossimo del nuovo anno scolastico. L'investimento da parte dell'amministrazione comunale è stato di circa 600 mila euro. Immediatamente dopo l'apertura si è registrato un intenso scorrimento di auto sia tra la rotatoria di via Popilia e la Bretella che sbuca su via Le Mancini, sia ancora del traffico che attraversa il ponte di Calatrava. L'apertura della strada è un altro degli step verso la riqualificazione di quella che era una periferia alquanto degradata ed il cui passo successivo sarà la realizzazione della nuova direttrice di collegamento fra la parte nord e la parte sud del capoluogo Bruzio, per la quale sono già state ultimate le procedure di affidamento. La cerimonia è tuttavia stata l'occasione da parte del sindaco Chiuto per ribadire l'invito a un maggiore uso del trasporto pubblico, specie a partire dalla prossima settimana con la riapertura delle scuole e soprattutto se si devono percorrere tratti brevi. E questo sia per contribuire a migliorare la qualità dell'aria che per decongestionare il traffico del centro. Va avanti quel progetto di città che abbiamo in mente e che si sta negli anni completando. Ricordo che questa zona era una zona abbandonata, quella di Gergeri. C'erano dei ragazzi che abitavano e che si vergognavano. Uno mi ha scritto una lettera bellissima dicendo che si vergognava di portare gli amici a casa e oggi invece si sente orgoglioso di vivere in questa zona. Quindi io penso che il lavoro che noi facciamo per migliorare la città è un lavoro che resterà alle generazioni future, ai giovani che si sentiranno sempre più orgogliosi. Citazioni, citazioni alte oltre tutto. E adesso è il momento di Io Scelgo Calabria. Io Scelgo Calabria è una grande iniziativa mediatica che mira ad ottenere ciò che governi, politica non sono mai riusciti a fare. Costruire un forte mercato interno calabrese. Possiamo aiutare i nostri migliori produttori agroalimentari se consumatori, ristoratori, proprietari di alberghi, pub, pizzerie decideranno di lavorare assieme. Io Scelgo Calabria. L'Andugia è un famoso salume spalmabile piccante originario di Spiling, paese calabrese della provincia di Vibo, Valencia, situato a pochi chilometri dalla bellissima Tropea. Michele D'Otro, giovane agricoltore e tecnico agronomo, ha le sue radici proprio a Spilinga e nella sua azienda produce Endugia secondo le più autentiche tradizioni di lavorazione, frutto di saperi tramandati di generazione in generazione. Magna Grecia Lifestyle, grande progetto di comunicazione integrata che mira a costruire modelli di convivenza economico-sociale e sostenibili, ha selezionato il meglio di questa produzione secondo un disciplinare molto rigido. L'Andugia di Magna Grecia Lifestyle contiene carni e grasso pregiati per il 70% circa e peperoncino per il restante 30%. Materie prime tutte derivate dalla cultura rurale del Monte Poro. Maiali allevati in proprio e peperoncini tripizzi, coltivati nei terreni di proprietà aziendale, così come i cereali, necessari per alimentare i suini. Una paziente stagionatura e affumicatura naturale rendono questa selezione di Endugia di Spilinga veramente unica. Nella lavorazione dell'Andugia non vengono usati additivi chimici, quali insaporitori, coloranti, conservanti, addensanti e né materie prime provenienti dall'estero. I budelli suini sono rigorosamente naturali, a partire dalla rinomata Orba, intestino cieco del maiale. Piccole quantità realizzate artigianalmente e manualmente. Scegli la Calabria che lavora. Entra nella rete di Io Scelgo Calabria. La nostra Endugia nasce dalla ferma adesione ai principi di armonia universale ideati nell'antica Magna Grecia oltre 2.500 anni fa. La filosofia della filiera corta, della massima valorizzazione del territorio di provenienza, nonché della vocazione artigiana come scelta, arricchiscono ulteriormente una storia che è nata nel sud più autentico. L'Endugia, selezione Magna Grecia Lifestyle, è figlia della civiltà mediterranea e veicola nel mondo globale partendo dalla Calabria. Un messaggio di tutela e affermazione di stili di vita a misura d'uomo. Endugia di Spilinga, selezione Magna Grecia Lifestyle, un prodotto pregiato calabrese molto amato nel mondo. La padrone stilali pubblica diしかottare una scelta, ma non ci rispondi. ImADugia di spuma con la illegale armata, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.